Salve ragazzi, io sono il tutto a fare oggi, giocherò nuova roba, e comunque sapete, mi sono arrivato a un punto, mi sono raga, oggi ho svegliato al tempo del mattino perché mi sognavo, pensavo cose brutte, quindi... Siamo arrivati alle 8 del mattino, lo so, però per me è un po' di tempo, poi passando 3 ore, il mattino ho praticamente dormito 5 ore, però mi sto riprendendo, comunque oggi giochiamo il nuovo questo gioco, però ecco, scusate se non l'ho fatto mai vedere questa... Oltre se arrivo a volta degli oggetti senza di voi, però... Allora, vedete che ho il tubo adesso, ho anche il ladrile, finalmente che sta scavando tanto, finalmente... Oggi giocheremo... E sto infatti, è un po' freddo, vabbè... Cioè, vediamo... Cioè, vi dico quante... Se arriviamo al cubo, sì, uno di questi, vi dico quanto è veloce... Guardate... 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 Io ho comprato il nuovo animale, quindi è 350 di scavi... Ovviamente due volte è già fatto... Sembra molto velocemente... 2 milioni di coins, però mi servono 4 mila per il nuovo... Cosa... E nulla... E saranno notizie comunque molto bene, cioè... 3... Ok... Ah, sfortunatamente è già finita... Poi mi immagava proprio poco, ma veramente... ma perchè mi laggo e non posso vedere a volte proprio a caso la prendo una da quattrocento cinquecento non vedo un capper vabbè c'è il solito lanciamine comunque ragazzi noiosità anche un po' io voglio anche la nuova derille c'è più che questo e poi cosa devo comprare un po' e mi sono menti la Snowbee lì la cosa la Golden Nobby che cos'è? si la Golden Nobby che costa diecimila ah non mai l'ho spesso sai che quando abbiamo quella nuova ma che mi dia se setenta cin... no mi dia centomila e che raga vi giuro centomila... no per forza raga centomila è troppo difficile c'è centomila a volte però c'è un centomila due mila però si fa troppo fatica c'è è stato più semplice un po' questa poi che cosa è la Golden Nobby ah la palla dorata dovrebbe essere se no mi sbaglio oh qua ne sono combinati tutte anche io ci riesco yeah ma no che futtura sono ma dai stiamo facendo soldi molte ore insieme e ma la cosa vedete cosa vedete molto in profondità c'è la cosa lì c'è la sabbia quella nera viola blu blu scura infatti quella cioè ormai sto scavando senza volere alcune cose ma anche questa fa l'automacchia se lui spara io no lui ah vedete qualcuno c'è la deriva vediamo eh ma eh ma paccheretti molto più felice della nuova però ma questa sabbia è molto più felice però scusate ma lei ha preso tutto io no beh giustamente vedete che questa qua è .50 di velocità è .0.25 qualche secondo cioè alla velocità massima comunque raga vi giuro spero che ma sono come di qua e a me di sto posso arriviamola cioè dai anche io ci sono per fare un po' più di punti ah vedete che velocità eeeh cosa è brutta che io come ho con la quattro mili spero che mi dia ma vabbè ma sono pochi cioè non mi servono più di più di più c'è tu dici quattro milioni un po' sonno perchè non è una cosa migliore idea da mh io sei le 5 del mattino mh non è una cosa migliore dormi dormi perché devo me ora sei che stanno sbagliando tutto mh oh ma scusami sto ecco non so perchè la love che cacchio canto ma non mi non mi non mi disse questa cosa che spai dimmi cos'è ma di disattivare no l'automatico mi tagli blocchi che non voglio che non voglio dormire 8 ore o anche di più possibilmente giustamente sempre dormire anche un po di più visto che poiché devi avere l'energia giusta per tutto poi e tutto tu vuoi dormi dormi per avere l'energia giusta non riesco mi fa male c'è il fondo scherzi sta rilassando la lavora di snu allora che noi diciamo che non provarlo a batterlo se c'è quella più potente se lo stiamo battendo anche un po troppo veloce mi aiuto no in realtà no però è bello andare con la velocità ok questo scavo semplicemente però è un pimenti veloce la vita raga ma dopo quando ho l'occhio mi perde qualcosa mi fa male qualcosa cioè ma dopo 4 che ho di un po scuspa cosa la c'è un scavaggio lo so che sta qua 200 però più l'animale non è male allora forse non ho messo ancora più no sono troppo esagerato allora scaviamo un posto e va cadù ma che scavano questi posti non mi scavano mamma mia che difficile allora si mette più scavare io ci metto poco ci metto il doping mi sto allagando nonno io sto nella camera c'è una camera nella mia casa c'è una camera c'è una camera dove il segnale del wifi è debole a volte comunque per vedere il fondo rosso del tempo è meno 1000 che veramente sono arrivato a 600 è nulla ho detto che sono dopo fanno rosso c'è la seconda rosa e fanno blu score che da 10.000 quindi è un blocco del mio e questo sei detto non mi vedo ma queste cose sono così cambia colore a volte lo hai a volte lo ho quello a volte quello amore che amore 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 che amore ma io sono un piccolo ma io sono un piccolo ma io sono un piccolo arrivo al mio server adesso vi dico sempre che quando esci che questa roba è tutto se si da me molto più lentamente perché sono nella camera quindi il segnale va a male è molto fuori nulla per questo sto tocco perché voleva canno ormai ragazzi quando mi sveglio 5 del mattino mi sento più strano al mondo cioè canto pure c'è più stranezza di questa io non lo so raga cioè mi sveglio 5 del mattino dopo tre ore quando faccio un video canto ma che che vabbè a cinque del mattino puoi fare una registrazione alle 8 non è molto buono sa che è molto presto però per me non è per niente quindi questo video sarà veloce cioè sarei quest'ora tanto alla quale mi dà 5 poi alle 8 quando vuole registrare vedete la storia che strana spero che non sia un macco vabbè quanto lagga 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 lì mentre sono vero mappi non è per niente mappi non è per niente le panni le cose non le smetto più rara ma per me le cose da scappa termine le sanno più allora che cos'ho? è brava è una battola del genere non è possibile volete che vi mostri il pc simulator? allora scusate scrivete nei commenti se volete che faccio pc simulator se volete non ha problemi ma l'altro dico il pc è molto bello però non è come sul pc cioè che c'è di nato del e dico però non è come giocare ai pc sui modi le modi è che c'è in questo gio... ahhh perchè lui c'ha... si perchè ma perchè si fa così velo lo sta a me si però deve avere molto tanto tanto di... ahhh ahhh ne lo so un numero vabbè a me non me ne freddo vabbè a me sa che c'è lui già a pie... mamma mia laga adu... ma non ti è resa ho un tocacchè il suo zaino ma capisco che mi raccontano di così ma stanno andando ma perchè fu allora io mi metto l'adminchino voglio ammazzare ma non sentite come una fottutissima a questo episodio non lo riesco a fare lo sanno mamma mia non mi hanno dato quasi nulla e scusate se questo vi è piaciuto lasciate un like datemi il mio canale salvatemi nei commenti se volete che faccio pc simulator e ciao